Salve, fratelli! Salve! Glielo hai detto tu che siamo fratelli? Io che lo conosco? È il signore che vi manda da noi! No, passavamo di qui per caso! Aspetta l'ora, mi devi sfidare, a che mi sfidi? Man, entri! Senti affamato, mi ho ammazzati per molto meno di animali come te, ma se vuoi una croce con un nome sulla fossa, dimmi come ti chiami! Mi chiamano... Alla prima occasione, lo sistemerò per sempre, quel figlio di una vecchia! A provarci, è più veloce lo serpente! Il tuo stupido amico ha ragione! Non ci provare! Lavori troppo le bolse, usi male l'avambraccio! Permetti! Quello che io mi sforzo a dire al sacco, Dani, è sempre la stessa cosa! Cioè, il rapporto con... C'è un rapporto sessuale, come un amplesso! Non è il posto che deve dare la spinta al... Father! Ma il dentro! Ma capito, loro? Eh? Oh! Questo è il movimento! Il colpo deve essere secco, deciso, preciso! Con questo sistema alzitato o magni! Guardami! 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 questa è una specie di duplicazione istantanea dell'immagine davvero molto interessante tuttavia senza conoscere il colpo segreto non hai alcuna possibilità di baggermi non sei in grado di riconoscere il mio corpo reale guarda qua, mi basterebbe usare quest'unico dito per farti uscire la vita dalla bocca non ho chiamare un bambino no, è come dove chiamarti non chiamarmi proprio, neanche se stai per affogare ma con quale autorità ti cacci dal paese? con quella che mi dà la legge no, lascia stare la legge, non ti conviene fratello, ti ricordo che tu non sei un vero sceriffo ma un ladro di cavalli e neanche tanto in gamba per giunta parla piano man, in trust i love the design the fattest DJ in the land check it out, y'all come on check it out, y'all check it out, y'all check it out, y'all anche due, tre volte anche due, tre volte benissimo allora vagino pure fuori dalle pal- si accomodino grazie a tutti grazie a tutti